Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e questa è la mia recensione per il New Mexico, il nuovo DLC per American Truck Simulator. Dopo l'Arizona, che era un'espansione gratuita, SCS Software ci offre nuovi scorci e nuovi orizzonti da esplorare nello stato del New Mexico. Tra parentesi, li ringrazio tutti, in particolare Pavel per la piacevole collaborazione che si è instaurata. Il New Mexico porta con sé 14 nuove città e molti chilometri di strade da percorrere, dotati di panorami, cittadine e luoghi di sosta da scoprire. Su questo ultimo elemento hanno dato grande spessore, infatti sono presenti ben 22 aree di sosta e rifornimento studiate singolarmente con grande attenzione ai particolari. Alcune di esse sono davvero grandi, ad esempio quella che state vedendo in questi momenti è poco prima di raggiungere Albuquerque, giungendo da Ovest. Oltre a queste 22, per cui è presente anche un achievement, molte altre sono più piccole, ma comunque ben curate. Le stazioni di pesa, piuttosto che la solita breve corsia sulla destra nelle autostrade, sono ora spesso all'ingresso delle città, in un'area loro dedicata. Peccato che questo, nella mia partita, abbia creato un piccolo bug per la stazione di pesa di Gallup. Il gioco mi ha avvisato che ero esentato dalla pesa, ma il messaggio è rimasto fisso fino al riavvio del gioco. Il paesaggio, come già si presagiva, è purtroppo molto simile a quello dell'Arizona, caratterizzato da enormi pianure arse dal sole, con scarsa vegetazione. Il piatume è talvolta spezzato da una collinetta, un fiume o qualche roccia rossastra che si erge davanti allo sguardo. L'unica parte che si differenzia in questo è a nord, nei pressi di Farmington e Ratton. La pianura cede il posto alla foresta, dando luogo scorci caratteristici. Un achievement celebra proprio questa zona. Ad un certo punto della strada fra le due città settentrionali potete trovare una scorciatoia tra la foresta. Prendetela e ve lo sarete guadagnato. Cercate solo di non farlo con un doppio rimorchio, come ho fatto io incastrandomi. Concludo parlandovi di Albuquerque, città crocevia del traffico merci nel nuovo stato, al cui centro spedizioni a BQ è possibile fare una consegna davvero speciale. Il prezzo di questa espansione è di 12€, onestissimo per quello che offre. Per questa recensione è tutto, ma tenetevi pronti. Presto arriverà anche l'espansione per l'Italia di Eurotrack Simulator 2. Grazie per la visione!